C'è rammarico perché comunque nonostante siamo rimasti in dieci abbastanza presto, abbiamo avuto occasioni, anzi abbiamo continuato a toccare, a giocare e quindi è un risultato che nonostante la sconfitta ci deve dare, secondo me, consapevolezza perché abbiamo fatto una grande partita, continuare a lavorare, lavorare perché i risultati si vedono e non mollare mai. In maniera molto forte Pasquale Foggia ha parlato ai nostri microfoni sull'operato dell'arbitro, simpaticamente Silvio Baldini non ne vuole parlare, chiedo a te che eri in campo. Ah no, è inutile parlare dell'arbitro, ne ha parlato il direttore e va bene così, noi abbiamo provato a fare il nostro meglio nonostante tutto, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo avuto anche diverse occasioni, però oggi non sembrava non volesse entrare, però dobbiamo lavorare, continuare così e raccogliere la prestazione perché la prestazione c'è stata, siamo rimasti in dieci dal ventesimo, venticinquesimo, cos'era, e comunque non sembravamo per niente in dieci anzi, quindi continuare così. Sul gol subito, c'è stata la spizzata di Nicastro che ha mandato coro verso Plizzari, anche tante proteste di Brosco, perché? Sì, perché anche a me sembrava che fosse un fuorigioco netto.